Posso dire, una prima puntata già pregna ma che mi ha un po' deluso, un po' stantia. C'è la ricerca della formula che aveva pagato a livello di ascolti nella scorsa edizione. Mi sarei aspettato personalità differenti. Anche la riproposizione di Tony che a me personalmente era molto simpatico, però... Io ho da dire una cosa... Arnold, veramente, Arnold, Arnold, come Cribbio si chiama, la sua fortuna è che è proprio il prototipo dell'uomo che fa sangue. E quindi tutte si ha... Ma io con Arnold, Arnold, non ci starei mai, fossi una donna. Mamma mia, che personaggino, proprio... E vedere i piedi piazzati sulle tette dopo due o tre giorni. Siamo veramente al degrado dei tempi. Io sarò un po' timido, sarò un po' castigato, per carità del Dio. Non è che uno deve prendere esempio da me perché si va al contrario. Però, Cribbio, io... Già, quando una si ferma e dice hai da accendere, io praticamente scappo. E quello è un eccesso al contrario. Ma uno che balla e fa tipo il po' già... il po' già ballette molleggiate, ma anche no. E poi andiamo alla coppia, veramente... Titti e Antonio. Io lo dico... Sono dalla parte di Antonio, sono un popular opinion. Ma Titti è la classica vagliassa napoletana. Mi dispiace, eh? Io non ce la faccio a sopportare. Cioè, è bella da vedere nelle trasmissioni di Trash, meno bella da vivere giorno dopo giorno. Che sta lì col fiato sul collo che si deve sistemare perché gli antichi valori a un'età ti devi sposare. Sono arrivato a 40 anni e uso la maglia di Dragon Ball. Ripeto, sono due esempi diametralmente opposti. Quindi, non vi dico di prendere da me perché sono un selettivo, sono pesante. Ma questa ti ci mette... Ma tu la vedi, è un'angoscia costante. Ma l'errore che ha fatto Antonio... Che la doveva mollare subito? Ma che gli fai la promessa di... Perché fai la finzione che c'era la gente alla Torre Eiffel e non si poteva fare la promessa di Matteo? No, scappami da prima! Va bene che l'hai fatto adesso. Hai aspettato proprio Tentation Island per il bello sistemarti. Cercarti ti fanno a nomea perché di solito quelli che lasciano le donne vengono criticati ma fanno audience. Quindi proprio... Io comunque sono da parte di dentro perché veramente ti dici... Mamma mia, santo cielo! Mamma mia, ma che pesantezza! Cioè, tu pensi tutti i giorni a sentirsi a questo. Che con quella voce fastidiosa, con quell'atteggiamento da sacra inquisizione... Ma non ti fai respirare! Cioè, tu pure tu sì, sei la persona più fedele del mondo. Ma Titti ti ispira proprio tra di me, come dicono da noi. I corn ti ispirano. Quindi, ragazzi, una prima puntata pregna. Che avrei voluto su Federica... Io tutta sta bellezza, io ho letto in giro, bellissima. È una bravissima ragazza, si vede proprio... Almeno nella prima puntata dei principi sistemati. Poi sappiamo che il viaggio dell'amore è un po' squilibri. Però... Però a me non piace Federica, eccoci. Ho visto delle tentatrici gustose esteticamente. Mi piace molto caratterialmente Federica. Sui uomini non vedo grandissime personalità eccezionali. Cioè, non è che al momento non c'è quella personalità che ti fa... Strabuzzare l'occhio. Sulle ragazze, secondo me, il livello è cresciuto di... È cresciuto da una parte... Lo scopriremo.